Buongiorno, oggi ci troviamo nel comune di Gavardo, quello che vedremo è un appartamento bilocale inserito in una palazzina di solo 6 unità, composto da cucina e soggiorno, camera matrimoniale, ripostiglie e uso cameretta, invano e un piccolo balcone, a completare un posto auto esterno scoperto. All'ingresso abbiamo il soggiorno con l'aulocottura con un balconcino e proseguiamo poi nella zona notte. Abbiamo la camera matrimoniale luminosa, una porta finestra, a seguire. Un ripostiglio, a uso cameretta. Per ultimo il bagno. Dove si possono inserire una lavatrice, anche un'asciugatrice. La richiesta per questo immobile, compresa del posto auto scoperto, l'ingresso della palazzina è di 100.000 euro. Siamo non lontano dal centro storico di Gavardo. Buongiorno.